E' rimasto incastrato con la gamba nella mietitrebbia in mezzo a un campo situato dietro la strada provinciale 460 a Lombardore. L'allarme è scattato nel pomeriggio di sabato 10 ottobre e poco prima delle 16. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Torino Scuro e Bosco Nero, il drago dei vigili del fuoco con i SAF, la croce verde di Cerie, l'elisoccorso del 118 e i carabinieri. Il ferito, 28 anni, dopo essere stato stabilizzato e stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Cerie, non dovrebbe essere in pericolo di vita, ha certamente in corso sull'accaduto. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.